La consegna delle borse di studio Città Studi Biella è un momento di festa con un unico denominatore comune, l'emozione. L'emozione da parte degli allievi e delle loro famiglie, dei docenti che possono gratificarsi dell'impegno profuso, degli sponsor che hanno creduto nell'impresa. Alla consegna i vertici della Fondazione Cassa di Risparmio con Franco Ferraris, neo-presidente, alla prima esperienza di questo tipo. Qual è il messaggio che vuole lanciare ai giovani? La cura del dettaglio, la grande differenza di tutti noi è la cura del dettaglio, non darsi mai per arrivare, che qualunque cosa vi abbia permesso di arrivare dove siete arrivati non è sicuramente sufficiente per mantenervici, quindi mai arrivati, cura del dettaglio e curiosi. Piero Ettore Pellerei, presidente Città Studi Biella, ha aperto i lavori con Luigi Squillario e ha sottolineato quanto sia l'impegno dei 33 studenti, complice anche, l'attenzione che viene loro dedicata dalla struttura, quasi a misura d'uomo. Una realtà che punta sulla qualità, su una ricerca qualitativa del tessile, tanto da rappresentare un unicum nel suo genere, oltre che in altre discipline. Sentiamo Pellerei. I programmi per il futuro. Una struttura come questa non può che avere dei progetti per il futuro. Noi siamo con i giovani e quindi per definizione dobbiamo avere dei progetti di sviluppo. Da settembre parte anche un'altra novità. Il secondo anno, è stato citato prima dal professor Rovero, il secondo anno del corso di laurea in ingegneria con una definizione molto tecnica, curvatura tessile, perché sarà il corso di laurea in ingegneria meccanica con curvatura tessile. Significa in concreto che stiamo cercando di ricostituire la filiera del sapere nel campo tessile. È il territorio che ce lo chiede e noi andiamo in quella direzione. Una studentessa uscita con il massimo dei voti. A chi dedichi questa laurea? La dedico innanzitutto a mia mamma. Devo ringraziare tanto lei perché è lei che alla fine mi ha permesso di studiare e mi ha concesso questa opportunità. Poi la dedico a delle persone che mi sono state vicine in questi anni, il mio fidanzato, amiche in particolare e tutti gli amici anche. Uno sponsor che crede da molto tempo in Cittastù di Biella. Sono anni che partecipo alla manifestazione della consegna delle borse di studio, ma sono anche tanti anni che sono sponsor ad altre iniziative che sono quelle che vengono subito dopo le lauree, quindi lo stage di qualità. Abbiamo sempre creato tutti gli anni degli stage anche quando gli stage non erano i tirocini, non erano ancora neanche istituiti. Una giornata che ha smentito il luogo comune secondo il quale nei giovani manca l'impegno. I borsisti di Cittastù di Biella smentiscono. Grazie dell'attenzione. Arrivederci.